la Transilvania che è stato fondato nel 1959 per il desiderio di tramandare le tradizioni e gli usi popolari la città di Baia Mare, vengono da via, una città storica per quanto riguarda gli usi e le tradizioni rumene e economiche è la città del capitale della regione del Maramurescio questa sera rappresentano i componenti del gruppo delle rappresentazioni dei modi di vivere dei posti dove si protegge la tradizione tra l'altro ci lanciano anche un messaggio che secondo me è da raccogliere cioè andiamo a visitare la Romania in Maramurescio e potrete rivivere i miei momenti queste sono le parole proprio dei rappresentanti di questo viso assolutamente sì eccovi qui la Romania eccovi qui Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.